Anche per tutelare Confindustria che ci ospita voglio precisare che la qualità dei libri non dipende dagli editori ma dagli autori che li fanno, perché i libri che somigliano ai comunicati stampa sono usciti per tutte le case editrici, non solo per quelle citate dal professore Visconti. Con l'occasione volevo sottolineare al professor Visconti che penso che tutti saremo contenti di una prospettiva di questo genere perché per esempio la radicalità dell'antimafia del comunicato stampa ha prodotto nella mia personale esperienza il fatto che un'amministrazione giudiziaria, due volte, due amministrazioni giudiziarie che lavoravano per conto del Tribunale di Caltanissetta non avevano la certificazione antimafia perché i prefetti non di Caltanissetta ma di altri territori avevano ritenuto che siccome c'era il Tribunale la certificazione antimafia non si potesse rilasciare. E quindi abbiamo l'amministrazione giudiziaria che ha ricevuto autorizzazione da parte del giudice per proporre il ricorso al TAR e chiedere l'annullamento del provvedimento di interdittiva. Quindi esiste anche nell'esperienza dell'antimafia questo incrocio di radicalismo antimafia reciproco che blocca le istituzioni. Tra l'altro vi immaginate cosa poteva significare un Tribunale del Centro Nord, un prefettura del Centro Nord con un Tribunale del Sud che sembrava fare la gara a chi era più antimafia tra la giurisdizione e la pubblica amministrazione. Sono fenomeni istituzionali o forse anche sociologici quelli di cui stavamo parlando e a questo punto siccome noi dobbiamo capire come vanno le cose per evitare di fare l'antimafia dei tweet dobbiamo analizzare bene qual è il contesto nel quale questo intervento deve essere articolato. Ecco perché oggi dopo la relazione introduttiva la tavola rotonda parte con un sociologo, con il professore Stefano Becucci che insegna Sociologia Generale all'Università di Firenze, che si è occupato di mercati criminali globali con diverse pubblicazioni al quale abbiamo chiesto di spiegarci in quattro parole mercato, regole, potere mafioso. Allora innanzitutto diciamo nei limiti di 20 minuti vi chiedo come dire di un pochino di spostare l'attenzione su, non seguirò naturalmente le tematiche di cui abbiamo parlato da stamattina fino ad adesso, perché fondamentalmente non essendo un giurista non è proprio il mio campo insomma, quindi di spostare un po' l'attenzione mentalmente verso altri piani, secondo altre prospettive. Grosso modo l'intervento si articola in tre parti, la prima parte nella quale vengono evidenziati alcuni aspetti legati alla globalizzazione e se vogliamo agli effetti non intenzionali ma non per questo meno reali legati al processo di globalizzazione. Il secondo aspetto, come è cambiata la criminalità su scala transnazionale in particolar modo. Terzo, quali possono essere, facendo alcuni esempi e ricorrendo ad alcuni esempi, le contraddizioni come dire sistemiche che poi impattano, sulle quali si trovano, e qui mi fermo diciamo ma all'atere vale un po' tutto il discorso, le cose, gli interventi che abbiamo sentito stamani, lo stesso contrasto giudiziario. Diciamo così, il mondo è cambiato, sembra una cosa, se noi quando noi facciamo riferimento a qualcosa che è avvenuto, un qualsiasi evento che è avvenuto negli anni 70, negli anni 80, lo percepiamo, tendiamo a percepirlo come qualcosa che appartenga a qualche secolo fa. È un'altra era. È come se avessimo avuto una dilatazione del tempo, tanto che il tempo stesso si è azzerato. C'è una bella frase di Rainer Maria Rilke, il quale dice il futuro entra in noi ancora prima che accada. Hai uno spostamento temporale per cui ciò che viene previsto avviene, rispetto a quello che viene previsto avviene nell'oggi e condizionale oggi, condizionale presente. Un altro aspetto, e questo è legato al processo di globalizzazione e all'innovazione tecnologica, sono vent'anni che non c'è internet, sono solo vent'anni, ma sembra molto di più, due decenni. Un altro aspetto che oggi, come dire, è l'idea di declinare la velocità come sinonimo di efficienza. Faccio un esempio, un'amica che lavorava una decina di anni fa per una grossa banca, la seconda banca più grande del mondo, a Milano, occupata all'epoca, oggi siamo in una fase un po' diversa, nella produzione, nelle cartolarizzazioni, quindi un certo tipo di prodotti finanziari, parlando così cosa fai, cosa non fai, guarda, se una nostra cosa, un nostro prodotto, entra nel mercato azionario e rimane più di due secondi, ovvero dopo, non viene acquistato entro due secondi, c'è qualcosa che non va, non è abbastanza appetibile. È un sinonimo del fatto che c'è qualcosa. Dopodiché, altro esempio, le dogane, le dogane italiane stanno sperimentando un sistema di sdoganamento delle navi in mare. Tutto fatto attraverso l'informatica, diciamo l'elettronica, va bene, no? Però è la cosa che tu sdogani le merci, ancora prima di arrivare in porto. E quindi la navi al momento in cui arriva in porto è già sdoganata, non ha bisogno di aspettare, di attendere, secondo questa logica che dicevamo prima. Il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui ragioniamo sotto il profilo degli attori criminali, questo tipo di, come dire, modalità operativa si traduce in un vantaggio competitivo per loro e in un costo sociale. È l'altra faccia della medaglia. Abbiamo scritto, molte cose sono state scritte dopo l'11 settembre, pochi forse sanno che Mohammed Atta riceve un finanziamento di 70 mila dollari, circa sei mesi prima dell'attentato, il capo e il leader del gruppo terroristico omicida, dopodiché questa segnalazione viene fatta, apre un conto in banca in Florida, normalmente, riceve questo finanziamento da un paese degli emiliati arabi, bonifico, bancario. Questa segnalazione viene fatta agli organi di controllo, americani, statunitensi, che in quel caso è un servizio segreto civile, corrispettivo, diciamo, del nostro UIF e del nucleo di polizia valutaria e la Guardia di Finanza, la differenza è che non fanno nessun tipo di accertamento, perché segnalazioni come quella se ne trovano decine o centinaia ogni giorno, o se non migliaia. Quindi da questo punto di vista è più facile occultare condotte illecite all'interno, come dire, di un mare magnum di scambi economici, di transazioni finanziarie e di circolazione delle persone. Dopodiché, diciamo, il secondo pezzo, come è cambiata la criminalità nel mondo a seguito di innovazioni e cambiamenti sociali di grande portata, legati alla globalizzazione e all'innovazione tecnologica. Qui la premessa è che, in un certo senso, le stesse attori illeciti, a mio avviso convincente, come dire, siano embedded, cioè incorporati, respirino la stessa aria e aggiustino le loro modalità di azione, il loro modus operandi, in relazione ai cambiamenti sociali di natura più ampia. Sul versante della letteratura, sotto il profilo analitico concettuale, troviamo grosso modo due modelli. Il primo modello è quello del network criminale, il secondo è quello del modello gerarchico strutturato verticalmente, al quale, in gran parte, appartiene ancora, appartengono le organizzazioni mafiosi italiane. Quella è la caratteristica dei network criminali? È il fatto di operare su nodi interconnessi, su scala globale e transnazionale, e dall'altro lato di essere, diciamo così, business oriented, lo sono anche gli altri, intendiamoci, ma la differenza è che, per capirci cosa è nostro andrangheta, hanno al loro interno un background di natura tradizionale che fa sì che alcune attività illecite siano, come dire, considerate riprovevoli, non penso allo sfruttamento sessuale, alla prostituzione, vivere alle spalle di donne non è dignitoso per un mafioso, questo vale per l'andrangheta e per la cosa nostra in particolare, cioè abbiamo un background culturale che in un certo senso impedisce, limita, l'ampia gamma di attività illecite nelle quali questi individui potrebbero potenzialmente entrare e gestire. Su quell'altro versante abbiamo al contrario figure, broker sostanzialmente, che fanno da connessione. La specialità dello stesso network criminale in realtà è la rete stessa, è il fatto di essere rete e di avere la capacità di costruire reti in relazione non tanto all'attività criminale quanto alla modalità operativa, al connetterle persone assieme e alla capacità di, come dire, un grande dinamismo sotto il profilo operativo, pensiamo all'immigrazione illegale, per cui tu puoi modulare in maniera diversa i tragitti, le tratte, a seconda delle operazioni di contrasto che vengono messe in atto, del fatto che una rotta non è più conveniente, non è più sicura e così via. Su quell'altro versante, il modello gerarchico strutturato, abbiamo, penso al traffico di droga, ma abbiamo elementi, come dire, specializzazioni criminali. Di qua c'è molto più dinamismo e capacità di adattamento. La terza questione, le cose, chiamiamole contraddizioni sistemiche, che cosa alimenta la criminalità odierna? Parlo di criminalità organizzata, in special modo quella di natura transnazionale. Fondamentalmente due questioni, almeno per quanto riguarda l'Italia, ma non solo l'Italia in realtà. la prima è il fatto di essere impiegata nella produzione di beni e servizi o illeciti, penso al traffico di droga, ma anche, è l'esempio che farò, di servizi o beni leciti, ma prodotti in maniera illecita. Pensiamo alla contraffazione. Tempo addietro, facendo una ricerca, tempo addietro poco tempo fa, diciamo nel 2009-2010, sulla criminalità cinese in Italia, intervisto il direttore della Dogana di Napoli, dopodiché leggo dei procedimenti giudiziari dell'epoca della DDA, da questi procedimenti giudiziari esce che l'attività di contrasto della magistratura aveva tolto, diciamo smantellato, un'organizzazione di trafficanti cinesi dall'una parte, camorristici dall'altra, che offrivano le loro conoscenze e collusioni col contesto italiano e le loro basi operative, in comunione, diciamo, di interessi economici, dopodiché, a un certo punto, un container doveva essere trasferito, per non destare i sospetti, da una zona all'altra del porto, per un errore, un qualsiasi errore che può capitare, le carte apparentemente non è in regola, viene collocato in un'altra zona, dalle intercettazioni, dal procedimento giudiziario, si legge che capiscono questa cosa, vorrebbero riportarlo dov'era, sono passate 24 ore, in realtà non sono più in grado di farlo, perché la merce è già entrata nella distribuzione commerciale, non c'è più. Vuol dire che tu hai su un versante la richiesta di prodotti, in questo caso a basso costo, frutto di attività illecite, frutto di sfruttamento del lavoro, che viene alimentata da un'ampia platea di consumatori, che riguarda in questo modo, in questo caso la contraffazione, ma gli esempi potrebbero essere fatti anche per altri aspetti. Un altro aspetto è poi qual è l'altra condizione sul versante del mondo produttivo, l'integrazione funzionale con il sistema economico più ampio, e questo riguarda, nello specifico, il traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento economico. È una cosa che si rileva nell'ambito delle imprese di immigrati, ma a seconda del contesto nazionale anche, come dire, macchia di leopardo in vari ambiti. Il punto è il passaggio dal fordismo al post-fordismo. Fino agli anni 70 la Fiat aveva, grossomodo, 15-16 livelli gerarchici interni, dal manager fino al livello più basso. Era un sistema economico che poteva reggere, nonostante i grossi costi di gestione, grazie alle economie di scala e a una produzione di massa garantita dal fatto che all'epoca l'economia italiana, e non solo italiana, come dire, tirava e le imprese producevano un numero più adeguato più che adeguato di beni che i consumatori consumavano. Ora, questa cosa qui non c'è più. Nessun imprenditore può pensare di programmare a lungo termine la propria produzione. Al contrario, che cosa deve fare? Deve, come dire, just in time, cogliere, aggiustarsi in tempo reale la propria offerta produttiva rispetto alla domanda. un arco temporale della domanda che si accorcia sempre di più. In più, un tipo di domanda proveniente dal mercato che di per sé è tendenzialmente aleatoria, ha un andamento così, non ha un andamento lineare, diciamo incrementale, nemmeno per un po'. Poi, naturalmente, il discorso cambia secondo il tipo di beni che produci. Produrre macchine non è la stessa cosa che produrre vestiti o calzature, naturalmente. Quindi, da un lato, un'impresa, generalmente parlando, in questo contesto, si trova a dover, da un lato, razionalizzare i costi perché è la condizione per poter stare sul mercato, a maggior ragione se opera su versanti nazionali o meglio internazionali. Dall'altro lato, di mantenere un livello tendenzialmente minimo di produzione, perché la razionalizzazione va verso il basso, non va verso l'alto dei costi produttivi, nello stesso tempo che cosa fa o che cosa dovrebbe fare? Aggiustare la propria offerta produttiva nel momento in cui la domanda di mercato si sposta verso l'alto. Quindi, è come se gli venisse richiesta una doppia funzione di per sé intrinsecamente contraddittoria, tenere i bassi livelli produttivi e nello stesso tempo just in time, in breve tempo, alzare questa capacità produttiva. Da questo punto di vista qua, l'impresa ha tre possibilità. Una è quella dell'outsourcing, l'esternalizzazione di parti consistenti del proprio processo produttivo. Ed è quello che sta succedendo. La grossa impresa che delega parti del proprio processo produttivo che fino agli anni 70 erano incorporati al proprio interno, disposta verso l'esterno, verso imprese minori, più piccole, attraverso un sistema nell'edilizia molto diffuso, ma anche in altri campi, nell'edilizia appalti, subappalti e così via, cascata. Un'altra modalità è quella della delocalizzazione in altre aree dove il costo del lavoro e altre normative sono, come dire, meno stringenti. Un'altra terza possibilità eventuale, come dire, teorica è quella di un utilizzo della manodopera quando serve e quando non serve poterne fare a meno. Dentro questo contesto e la prima l'esternalizzazione di parte del processo produttivo è quella più rilevante, la più avanzata nel contesto italiano, le imprese labor intensive, quelle ad alta intensità di lavoro che sono immigrate ma non solo a seconda del contesto italiano, si inseriscono nella parte finale a valle del processo produttivo stesso. E quindi, come dire, detto in altri termini, se viene sequestrato, per ritornare all'esempio concreto, se viene sequestrato un laboratorio di contitolare cinese a Prato che produce scarpe, pelletteria o cose varie, dentro quel contesto lì, beh, insomma, abbiamo, come dire, delle condotte illecite che sono individuali, senza dubbio, ma su quell'altro versante abbiamo una pressione strutturale ben più ampia che induce e sollecita quel tipo di comportamenti e quel tipo di attività, perché quella medesima impresa piccola sta dentro un'integrazione funzionale dentro un sistema più ampio a cascata nella quale svolge le proprie attività produttive. Per concludere, per concludere, penso di concludere anticipatamente, no, direi che, insomma, riprendo la suggestione del dottor Balsamo, cioè un paese contraddittorio con grandi lampi, ma anche slanci di speranza, un paese contraddittorio l'Italia, difficile e contraddittorio, quando si va all'essere lo si capisce immediatamente, si capisce che si può vivere in maniera diversa e fa specie, no? Se stai qua, se non ti muovi, hai solo un termine di paragone, nel momento in cui ti sposti, basta uscire fuori da, non c'è bisogno, normalmente in molti paesi, quelli occidentali, tutti o quasi tutti, si capisce che si può vivere in un'altra maniera e che è possibile farlo. Direi così, per concludere, tutti conosciamo cosa voleva dire la linea della palma di Sciascia, rovesciata, rovesciata, con quello, non solo col pessimismo dell'intelligenza, volteriano, che talvolta sfocia in un cinismo razionalistico, ma piuttosto il pessimismo dell'intelligenza con l'ottimismo della volontà, assieme. E qua, qua a Sicilia, un confronto, io conosco abbastanza bene la Calabria per lavoro e per altre cose, più o meno quanto la Sicilia, diciamo così, qui abbiamo un tessuto sociale, perché la Sicilia ne ha passate, mettiamola così, ne ha passate di pesanti e questo ha consentito anche la creazione per contrapposizione di un tessuto sociale riflessivo, consapevole, che è un grosso problema, l'organizzazione criminale mafiosa e che quindi, come dire, occorre reagire. diversamente quel medesimo tessuto sociale, per esempio, in Calabria non c'è, c'è una società civile molto più sfilacciata, molto più sfilacciata, ahimè, purtroppo. E di nuovo, per concludere, il punto a proposito di organizzazioni mafiosi italiane che in un certo senso sono più attaccabili rispetto al network criminale fluido, dinamico e per certi aspetti evanescente e a territoriale sono più attaccabili perché rappresentano una struttura gerarchica, un controllo del territorio che produce anche consenso sociale, che produce tra virgolette lavoro, posti di lavoro, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però che cosa manca? E cosa è mancato finora? Una consapevolezza precisa sotto il profilo politico fondamentalmente che è un nodo, due nodi centrali, due, o meglio uno, è il collegamento tra organizzazioni criminali e cosiddetta area grigia che vuol dire professioni liberali, che vuol dire imprenditoria, che vuol dire classe politica locale e nazionale. Quello è un punto nodale che se non sciogli quello non si va molto lontano, si fa fatica perché è una questione dell'organizzazione criminale in quanto tale, dopodiché ci sono tutta una serie di collegamenti addentellati e di interessi reciproci, vantaggiosamente reciproci, che tengono assieme il sistema e solo a quelle condizioni lì è possibile probabilmente se la politica come dire assume come priorità nazionale questa questione allora superare questa fase di questo ostacolo. Grazie.